3 a 1 per i Galacticos contro la squadra di Capitano Bortone la squadra di Manolino Torre sta vincendo una partita che sembrava facile ma Bortone e i compagni li stanno mettendo in difficoltà batte roto per Punzo, Punzo se ne va sul desto, Punzo prova il tiro, la deviazione di Menna ancora Punzo che fa volere la sua prestanza fisica Punzo ancora se ne va, Punzo prova a dribblare l'uomo, druba Casalini Punzo ancora, ridriba tutti, Punzo cade da solo per terra reclama il rigore Bortone ancora Punzo, Punzo se ne va sul sinistro, Punzo prova a tirare, Punzo deviata calcio d'angolo, oh, dondo, stai segnando provo a battere numero 9 della squadra di Bortone calcio d'angolo, la sua terra dietro per Giovanni Esposito che desterno cicca, Santoro punta l'uomo sul plus, Santoro se ne va Santoro recupera Candice che dopo il finestrino di ieri sembra ancora un po' stordito Candice la dà vicino per Dodo Passaro, Dodo Passaro dà per Punzo Punzo sulla destra, provate ad andarsene Punzo, Punzo ancora dentro per Passaro Passaro per Bortone, scandaloso, cosa sbaglia davanti la porta a Bortone un tapin che segnava anche mia nonna, ma Bortone è capace di sbagliarlo sull'azione dall'altra parte è l'uomo Casalini lascia uscire il pallone palla per Passaro che lascia la palla a Punzo, se la fa prendere da Menna Menna ancora, se la porta fuori, rimessa laterale per Ione di Bortone punteggio ancora bloccato sul 3 a 1, ma la squadra di Bortone e compagni sembra più propensa alla fase offensiva ora Passaro lancia lunga dove nessuno ci può arrivare e quindi Manuel Torre si appresterà a battere un riveo dal fondo palla vicino per Lullo Casalini Lullo Casalini per Comparini, ma Menna poi prende il pallone la dà a Sigona, Sigona, Sigona è il numero di Sigona ma Candice è sicuro, recupera il pallone e fa ballare sulla fascia Passaro, Passaro, ottimo lo stop regala la palla a Santoro Santoro prova ad andarsene, Santoro se ne va sulla sinistra Santoro perde un po' di tempo e si fa recuperare facilmente la palla da difensore in maglia arancio sul punteggio di 3 a 1 per i Galacticos chiudiamo il nostro collegamento siamo qui con Lullo Casalini, autore di un gol nella partita che i Galacticos vincono 5 a 1 contro la squadra di Bortone una partita comunque facile, avete dominato tutto il tempo dicci due parole sul match vabbè, è stata una partita, ci abbiamo subito il primo gol subito, cioè hanno battuto e l'avendo segnato e poi siamo stati bravi a fare 5 gol dopo senti, punti a qualche obiettivo personale? no, vabbè, prima la squadra e dopo questi 3 punti la classifica come si mette? che siete in classifica? eh, siamo primi, però non lo so se sei che giocate a fare fai una tetica a qualcuno, a qualche ragazza vabbè, nessuno, a mezzo alla squadra vabbè, un bacio a noi, ciao che fu...